I sapori, i colori e i profumi della terra tornano ad essere protagonisti con Non Men UNESCO, un'iniziativa voluta dal distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia, il gusto della cultura, finanziato dall'assessorato regionale al turismo della regione Sicilia, in programma dal 13 dicembre fino al prossimo 16 dicembre. Previsti incontri, tavole rotonde, degustazioni ed eventi per conoscere e apprezzare il territorio e valorizzare un patrimonio enogastronomico e culturale dal valore inestimabile in location d'eccezione. L'iniziativa partirà il 13 dicembre da Sambuca per arrivare il giorno 15 ad Erice al Palazzo Sales, dove si terrà un workshop cultura enogastronomia di qualità e dieta mediterranea patrimonio dell'UNESCO, da Sicilia del cambiamento, con pannelli di lavoro dedicati alla dieta mediterranea, alle vite d'alberello, ai grani antichi siciliani, alla tutela della biodiversità. Dopo i saluti istituzionali del presidente del distretto Matteo Rizzo, del sindaco di Erice Giacomo Tranchida, dell'assessore regionale con delica al turismo allo sport e allo spettacolo Antonio Emanuele Barbagallo, Fabio Piccoli, direttore di Wine Meridian e Pietro Miosi, responsabile e dirigente del dipartimento promozione e marketing dell'assessorato regionale agricoltura, presenteranno le attività dei workshop cui prenderanno parte ospiti illustri e relatori d'eccezione. Degustazioni e percorsi del gusto saranno a cura dell'istituto alberghiero Florio Dierice, protagonista della giornata del 16 dicembre. A Palazzo Sales infatti gli studenti incontreranno Simonetta Agnello Corbi, ospite d'eccezione dell'evento, nei cui romanzi si percepiscono sapori e colori della Sicilia. La scrittrice palermitana alle 17.30 sarà presso il Teatro Gebelamed per la conversazione di Edam Mediterranea e letteratura. Grazie. Grazie. Grazie.